Determinante Facundo Lescano, gol in bello stile, una traversa che sta ancora tremando, tre punti portati a casa, l'unico rammarico è il gol del Picerno al novantesimo a Francavilla. Sì, sì, infatti niente, oggi per noi era una finale, la prima delle due finali. Sapevamo che il Foggia aveva una partita difficilissima perché, come vedete, il Catanzaro non ha dato niente a nessuno, anzi noi abbiamo fatto un partitone lì da loro. E niente, il vento ci ha condizionati e purtroppo il Picerno ha fatto quello alla fine. Infatti appena abbiamo finito ho subito chiesto e mi hanno detto guarda, negli ultimi minuti è andato in vantaggio. Comunque noi saremmo andati a vincere là perché il mister ci chiede questo e bisogna avere questa mentalità. La partita Facundo, primo tempo con tante difficoltà, sia tu che il Presidente avete sottolineato l'aspetto vento, però non ero un bel pescara quello del primo tempo, ha cambiato tutto nella ripresa, secondo te cosa è cambiato? Abbiamo fatto fatica secondo me a andarli a prendere all'inizio, loro erano organizzati, poi abbiamo preso questo gol, le palline attive le stiamo soffrendo e niente, il secondo tempo poi abbiamo tirato fuori quella rabbia e quella pressione che forse avevamo perché è inutile nasconderci, noi dobbiamo arrivare a terzi, quindi oggi una vince per forza, forse è una delle prime volte che avevamo questa pressione, ma dobbiamo cominciare ad abituarci perché i play-off saranno in partita così e poi secondo te un po' anche grazie al vento abbiamo capito come prenderli e penso che alla fine avremmo meritato forse anche il terzo gol. Faccio una domanda difficile, quanti gol hai fatto quest'anno? 17. Perfetto, quello di oggi è il più bello? Sì, diciamo che forse il più bello è stato quella gel, bisogna aver visto il mister alzare le braccia è stato un evento, però è importante che oggi ho portato insieme a Riccardo, insieme a tutta la squadra il nostro contributo per i tre punti e il bene del Pescara sempre prima. Questo Facundo Lescano, quello di questo periodo, è lo stesso di inizio anno per brillantezza, per forza? Siete uguali o ti senti meglio adesso? Forse adesso mi sento meglio perché ho anche il supporto dei compagni, ho anche il supporto della gente quindi all'inizio, sai, arrivare a una piazza come Pescara non è semplice devi conquistarti il tifoso con le prestazioni, ovviamente il mio ruolo con i gol però adesso mi sento che posso anche fare la giocata o comunque mi sento più libero, più sciolto in campo. Molto bella questa risposta di Facundo Lescano. Massimo e Fabio, una domanda per il bomber biancazzurro. Fabio? No, io a Facundo, visto che lui è entrato sull'argomento del gol preso, volevo chiedere se è stata una scelta vostra di difendere così bassi da una punizione comunque molto lontana o se è stato un diktat che vi ha dato il mister prima della partita perché secondo me il gol l'abbiamo preso perché abbiamo difeso molto molto bassi su una punizione comunque lontana dalla porta. Chiede Fabio Ferraresi sul gol subito se ve lo ha chiesto l'allenatore di difendere così bassi perché la punizione di Pinto era molto lontana dall'area di rigore e voi eravate molto bassi come linea. Sì, proprio stamattina abbiamo rivisto il gol che abbiamo preso a Taranto sul calcio d'angolo che ha fatto col bifulco e non eravamo messi benissimo, penso che oggi eravamo messi meglio forse si eravamo bassi ma a volte ci prendiamo quel metro in più per poi andare a impattare il pallone c'era il vento, lui l'ha solo sfiorata e la palla poi ha preso ancora più velocità però sicuramente un aspetto bisogna lavorare perché le partite si decidono anche da questi dettagli. Vediamo se facciamo sorridere Salvatore Aloi dietro la telecamera ti ha fatto un assist e la traversa ti ha detto di no. Sì, sì, infatti me l'ha subito detto, non mi premi mai che ti ho fatto un assist purtroppo vabbè, gli ho detto che avesse picchiato la palla un po' più giù magari facevo traversa rete invece ai playoff magari mi fa un bel regalo.